Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri del comando provinciale di Bari, codiuvato da quello dei vari reparti competenti per territorio, ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal GIP del Tribunale barese nei confronti di tre pregiudicati, uno dei quali di nazionalità albanese, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti tragono origine e ne rappresentano una naturale prosecuzione da un'articolata e complessa attività investigativa svolta dalla Compagnia dei Carabinieri di Barletta, conclusa nel 2015 e sviluppata attraverso numerose e articolate attività di pedinamento e di intercettazione eseguite in tutto il territorio nazionale. Le precedenti misure cautelari eseguite la mattina del 3 novembre 2016 erano riconducibili all'attività di indagine che svelò l'esistenza di tre distinti sodalizi stanziati nella provincia del nord barese, uno costituito da elementi albanesi, i rimanenti due da soggetti autoctoni che in strata collaborazione fra loro sono risultati dediti all'importazione di ingenti quantitativi di marijuana dal Paese delle Aquile di cocaina dalla capitale e dal capologo Lombardo e da Palermo rispettivamente tramite alcune paritetiche organizzazioni strutturate di matrice albanese, pugliese e siciliana. Con l'esecuzione delle misure restrittive eseguite nel novembre 2016, i Carabinieri di Barletta, coordinati dalla DDA di Bari, hanno continuato nelle attività investigative acquistando nuovi ed ulteriori elementi probatori sul conto di Capocchiano Alessandro, 39enne pregiudicato di origine foggiane, ma dimorante a Monza, ritenuto il fornitore milanese del sodalizio. Il narcotrafficante internazionale albanese Ndoi Alban, 37enne residente a Roma, ritenuto il canale di rifornimento romano della congregazione malavitosa e la barlettana La Vecchia Concetta, 53enne esponente di rilievo del panorama delinquenziale del nord barese, in passato legata all'organizzazione criminale turca, della quale la sua organizzazione si riforniva di stupefacenti. Gli arrestati sono stati associati alle rispettive casse circondariali di Monza, Frascati e Trani.